Raid è una orgia di fantasia, con un tocco di macabro che fa da ciliegina sulla torta. L'idea non è solo quella di raccontare una storia allo spettatore, ma quella di far vivere proprio allo spettatore un'esperienza dove viene in qualche modo costretto ad usare tutti i suoi sensi nell'ennesima potenza. È un film che mischia il linguaggio nato con le action cam per gli utenti che si riprendono mentre fanno gli sport estremi e lo trasferisce in un racconto thriller, mystery, action, molto action. È un'azione che è data proprio dalla natura dello sport estremo. Le camere fanno parte integrante della storia. Dal punto di vista narrativo Raid racconta una storia semplice. Kyle e Max sono due personaggi diametralmente opposti, che hanno in comune la passione per gli sport estremi. Black Babylon, bitch! Vengono contattati da questa Black Babylon, che è un'agenzia abbastanza sconosciuta, per un evento, per una sfida, una competizione. Per ottenere una grande quantità di soldi che salverà le loro lezioni. Perché sono in difficoltà finanziarie per diversi ragioni. Quando decidono e accettano la sfida si rendono conto che la sfida non è prettamente agonistica. Pronto? Mai! È una storia sulla loyaltà e la amministrazione. È divertente, è esercizionante, fast-paced, furioso e sorprendente. Godetevi la corsa. Raid è stato concepito dall'inizio come una storia ma soprattutto come un'esperienza, come un viaggio. Abbiamo lavorato tutti gli aspetti del film, dalla scrittura al montaggio, dei fatti speciali e la musica per dare allo spettatore la stessa sensazione che hanno i Raider mentre fanno la corsa. Quindi salite in sella, venite al cinema e enjoy the ride. Per ora è tutto. Oggi voglio parlarvi di Hereditary, nuovo horror che uscirà il 25 luglio e distribuito da Lucky Red. E vi posso dire che questo film, scritto e diretto da Ari Aster, è un horror contemporaneo dal taglio psicologico, ci piace, che scava tra le ombre del passato dei suoi protagonisti, in cui però ciascuno di noi si può riconoscere. È molto interessante. Breve accenno alla trama. Quando l'anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti terrificanti sulla loro famiglia, che le obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano avere ereditato. Appunto da qui il titolo. Hereditary ha avuto una gestazione di diversi anni, prima che la produzione prendesse finalmente il via nel 2017. Però il regista Aster aveva già creato delle biografie e degli antefatti dettagliati per i suoi personaggi, ancora prima di scrivere la sceneggiatura. Poi per quanto riguarda la produzione, nel film vengono usate delle miniature pazzesche, create da Steve Newborn, che è uno specialista degli effetti visivi, conosciuto per Suicide Squad e la serie TV 12 Monkeys. Oltre a ideare le miniature, i diorami e i loro intricati decori e contenuti, Newborn ha contribuito a realizzare gli effetti speciali del makeup e delle protesi, che hanno un ruolo fondamentale e centrale in alcuni momenti molto intensi di questa storia. Allora, ditemi cosa ne pensate, il vostro genere di film lo andrete a vedere? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E la citazione di oggi è Nessun incidente, nessuna coincidenza, nessuna via di fuga, non si può ingannare la morte. Che film è? Lo riconoscete? Scrivetelo nei commenti se lo sapete. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. A presto!